Inizieremo alle 14.45 ritrovo, ci sarà un momento formativo che faremo a San Francesco, in chiesa a San Francesco e poi ci spostiamo in pellegrinaggio alla Porta Santa per poi partecipare alla messa con il Vescovo e alla fine della messa ci sarà un momento conviviale, una pericena, diciamo così. Il momento è pensato per la famiglia nella sua interezza, quindi sia genitori che bambini. Il primo momento sarà dedicato alla famiglia, quindi sarà un momento in cui parleremo della misericordia in famiglia e lo faremo insieme ai bambini nella chiesa di San Francesco. Poi i percorsi si dividono, quindi gli adulti avranno un momento forte di testimonianza. Abbiamo invitato Carlo Castagna che ci parlerà proprio del perdono nella famiglia, mentre i bambini avranno un loro percorso parallelo, fatto di giochi e attività suddivise per fasce d'età. Poi alla fine del momento, diciamo, di incontro con Carlo Castagna, riuniremo ancora le famiglie per arrivare al passaggio alla Porta Santa e poi alla messa con il Vescovo. Come vi siete preparati a questo momento? Allora, un bel momento, quindi partendo, diciamo, dalla bolla di indizione di Papa Francesco, abbiamo pensato che un momento specifico per la famiglia fosse importante e ci siamo preparati cercando di coinvolgere più famiglie possibili. L'idea è quella proprio di riuscire ad arrivare a tante famiglie della nostra diocesi, a tutte. L'obiettivo è un po' di arrivare a tutte. Abbiamo coinvolto nella preparazione alcune famiglie di tante parrocchie della nostra diocesi e poi abbiamo cercato anche di coinvolgere in modo particolare le famiglie della città di Lodi che ci aiuteranno appunto nella preparazione del momento di festa finale dopo la messa. Per questo momento è stato anche pensato e predisposto un volantino particolare? Sì, proprio per cercare di arrivare a più famiglie possibile anche, diciamo, tutta la pubblicazione, insomma, tutte le pubblicità che abbiamo fatto e stiamo facendo sul nostro sito internet e sulla pagina Facebook mirano a cercare di coinvolgere, no? Quindi il volantino è fatto in questo modo, si può dividere, è fatto apposta per poter avere un invito personale per la famiglia che parteciperà ma poi per poter dare anche l'invito, nella stessa forma, a un'altra famiglia che magari generalmente non partecipa all'iniziativa diocesana ma che certamente può essere interessata a questo momento forte delle famiglie. Divolgiamo quindi un invito alle famiglie a partecipare? Sì, l'invito è partecipate, sarà un bellissimo momento in cui la famiglia potrà davvero dire intanto quanto è bello essere famiglia e poi sicuramente quanto è bello poter riflettere insieme i genitori e i figli sulla misericordia e sul perdono, no? Papa Francesco ci ha sempre detto che la famiglia è il luogo privilegiato di esperienza del perdono ecco, vogliamo provare a raccontarlo con un momento di festa come quello del Giubileo. Grazie a tutti!